Siamo con Samuele Bielli della Bricpense, una bella vittoria, una partita che era bloccata nel primo tempo, si è fatta anche complicata all'inizio del secondo che avete preso il gol. Poi insomma, cosa è scattato in voi, cosa è servito per ribaltarla? Ci siamo parlati dentro gli spoglatoi e siamo stati sicuramente bravi a raggiare. Una vittoria di squadra, serviva, la prima in casa, quindi siamo soddisfatti del risultato e anche comunque scontri diretti in campionato sicuramente ci aiutano in classifica a risalire perché comunque ce lo meritiamo, lavoriamo bene una settimana e quindi siamo contenti per questo. Hai fatto un intervento clamoroso nel primo tempo, ti si è fatto anche male, cosa è successo in quel frangente? Sì, diciamo lì distinto, sono andato, la prima cosa che mi è passata per la mente e niente. Adesso ci ho messo a tutta e andrà bene, però merita della squadra come ho detto e ora pensiamo alla prossima, una partita in casa difficile, con la prima in classifica dovremo fare il nostro e portare a casa il risultato. Bisogna ripartire dal secondo tempo di oggi o c'è qualcosina ancora che cambieresti nell'approccio? Sicuramente l'approccio è fondamentale alla partita, bisogna entrare bene in campo però comunque, come ho detto, siamo contenti, siamo soddisfatti, il secondo tempo siamo andati meglio e quindi sicuramente bisogna ripartire da questo. Perfetto, allora grazie mille, complimenti ancora e in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie.